Dal 2 al 5 maggio Pistoia ospiterà la sesta edizione della rassegna di cucina e tradizione regionale La Toscana in Bocca. Il teatro dell'evento saranno gli spazi della cattedrale Ex Breda e non solo. Un'area verde arricchirà il lato ovest della struttura permettendo ai partecipanti di gustare il meglio della no gastronomia locale circondati da un giardino con panchine, alberi e piante perfettamente immersi nel clima primaverile delle giornate di maggio. Sì, finalmente ci siamo, siamo alla sesta edizione. Il 2 maggio aprirà la Toscana in Bocca alla cattedrale con diverse novità. Noi cerchiamo sempre con il gruppo di lavoro di portare novità, di portare un vento nuovo ogni anno per dare la possibilità a chi viene tutti gli anni di vedere e partecipare con qualcosa appunto di innovativo, di divertente. Quest'anno avremo per la prima volta una parte esterna, un giardino esterno che appunto permetterà di vivere anche all'aperto la Toscana in Bocca e avremo la possibilità di fare show cooking con ristoranti stellati ogni giorno con un ristorante stellato diverso. Una grande iniziativa che vede protagonisti naturalmente gli operatori, cioè i ristoratori della nostra provincia. La manifestazione è in crescita sia negli operatori che partecipano, sia nel successo che riscuote tra il pubblico, non solo pisteese ma anche da fuori. Attraverso le nostre eccellenze, i nostri ristoratori facciamo conoscere la città e tutto corredato da grandi iniziative che rendono la manifestazione unica. Avanti tutta, come ho detto l'anno scorso, è facile farla, è sempre più difficile farla crescere e mantenerla e loro ci sono riusciti.